Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi praticamente tutti i festeggiamenti per il rientro degli azzurri in Italia. Sono arrivati ieri mattina molto presto e poi nel pomeriggio sono stati ricevuti prima dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi subito dopo un vero e proprio bagno di folla a bordo di un autobus scoperto con il quale hanno fatto un giro per il centro della capitale. Vedremo appunto la foto su tutte le prime pagine dei giornali. bagni di folla che hanno naturalmente destato la preoccupazione di molti rispetto alla questione dei contagi da Covid. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato addirittura di un contagio in diretta e ha espresso appunto grande preoccupazione. Anche perché comunque sia poi in tutta Europa i contagi sono in risalita per quanto riguarda l'Italia. Continua a salire il numero dei contagi ma rimane comunque, questo c'è da sottolinearlo, basso il numero delle vittime e quello dei ricoveri ospedali tant'è che si sta pensando di cambiare appunto i parametri che determinano il passaggio delle regioni da una zona all'altra. Poi naturalmente la politica con le questioni del Movimento 5 Stelle e il disegno di legge Zanna che oggi arriva in aula al Senato. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Così avete unito l'Italia. Gli azzurri ricevuti da Mattarella, Vittoria Meritata e Armonia. Chiellini dedica ad Astori gli applausi di Draghi. Grazie a voi siamo al centro d'Europa. Poi il giro in bus per Roma. Con loro c'era anche Matteo Berrettini di cui oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera. Da bimbo pensavo a tennis sei scarso. Le questioni che riguardano il virus con il tasso di positività che risale più contagi in 19 regioni si rischiano nuovi divieti. La Repubblica, eccolo qui. Avete unito l'Italia alla Festa degli Azzurri. Draghi riceve la nazionale Berrettini. Grazie a voi siamo al centro dell'Europa. Lo sport insegna a tutti. E Mattarella, Donnarumma, ha reso felici milioni di persone. E poi il bagno di folla nelle strade di Roma. Ancora la stampa. Anche qui l'Italia in primo piano. Italia felice. E anche il messaggero. Messaggero, eccolo qui. I fratelli d'Italia con Mattarella e Draghi che esaltano i neocampioni d'Europa. Folle in strada a Roma per gli azzurri sul bus scoperto. Preoccupazione però per gli assembramenti. Lo dicevamo, ipotesi mascherine all'aperto. Pass verde dopo due vaccini. Il piano per arginare la variante. Ancora oggi in Senato il DDL ZAN. A settembre gli emendamenti. Alvia la battaglia in aula. Ma il governo ora punta al rinvio. Oggi in Senato alvia il voto. Ma solo sulle pregiudizie di costituzionalità. Poi tempi lunghi per gli emendamenti. Sottolinea il messaggero. In taglio basso. Le questioni che vengono dagli esteri. Cuba si ribella alla povertà. Basta dittatura. Ancora vediamo il sole 24 ore. Il quotidiano economico. In taglio alto. Processi penali. La classifica dei ritardi. In 10 distretti di corte d'appello su 29 migliaia di procedimenti a rischio. Più risorse dal PNRR. La riforma punta sul taglio. Ai dibattimenti in aula. Ancora il segretario del tesoro americano. La Yellen. Che chiede all'Europa più spesa pubblica. contro la crisi. E poi si parla anche sul Corriere della Sera di oggi del decreto semplificazione. Il governo alza il muro per le modifiche del 110%. L'apertura del fatto quotidiano. Notti magiche. Inseguendo il Covid. Bella vittoria azzurra. Pessime reazioni. Italiote. Due vittime più un affogato. Zero controlli. Feriti e assembramenti. Anche per il pullman dei campioni. Vietato e poi autorizzato. Ma da chi? E ancora in taglio alto si parla di giustizia. Ingiustizia dice il fatto quotidiano. Comincia la battaglia per l'approvazione. Salva ladri. Rivolta dei giudici. Base 5 stelle. A Conte. Votate no. Il foglio. Eccolo qui. Da cui vi segnalo a firma di Cado Cerasa. Il direttore Iessi. In Europa è il momento dell'Italia. Astri allineati. Economia, politica, nuova centralità. Oltre al calcio c'è di più. Il domani. Eccolo qui. Che parla invece del blocco dei licenziamenti in apertura e sussidi. Che hanno evitato la catastrofe sociale. Il rapporto dell'Inps calcola che congelare il mercato del lavoro ha preservato 330 mila posti. Mentre il reddito di cittadinanza va soprattutto a persone che non sono occupabili. Inclusi minorenni e disabili. Ancora chi paga il vero conto della fragilità dei 5 stelle. Affirma di Stefano Feltri. Vediamo anche l'apertura del domani. Eccolo qui. Cambia vento. Unità nazionale. Passare la donore per gli azzurri. Mattarella punge gli inglesi. Draghi esalta il sistema Italia. Così torniamo al centro del mondo dopo il Covid. E questa fotografia appunto di Mario Draghi con il CT della Nazionale Roberto Mancini. Ieri nel corso appunto dell'incontro a Roma. Ancora li abbiamo fatti azzurri. Travaglio di bile, di inglesi e di anti italiani. Botte ai nostri tifosi. Il principe se ne va senza salutare Mattarella. Peggio dei sudditi della regina. Ci sono solo i commentatori di sinistra che volevano politicizzare il calcio. Ci fermiamo per qualche minuto. E riprendiamo subito dopo con la rassegna stampa. Bentornati studio. Proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del manifesto. Il titolo principale. Giochi pericolosi sulla pelle delle persone LGBTQ. Comincia oggi in Senato la discussione sul DDL ZAN. La Lega cercherà di rimandare il testo in commissione. Promette battaglia. Renzi insiste. I voti per approvarlo non ci sono. Tutto rischia di slittare a settembre e di finire su un binario morto. In taglio alto alla vicenda della GKN. C'è un'intervista oggi sul manifesto alla vice ministra Todde. Che dice appunto dalla GKN. Non uscirà una vita. E giovedì il tavolo al mese. Non gli faremo chiudere il sito. Lo ricordiamo. 422 operai di questa azienda licenziati con una mail. Vediamo anche l'apertura del resto del Carlino. Eccolo qui. Il paradosso del vaccino italiano. Una sperimentazione rivela che il reitera copre dal virus al 93% dopo la prima dose. Ma i fondi per finanziarlo sono bloccati. Sospese le consegne di AstraZeneca e Johnson & Johnson si prosegue con Pfizer e Moderna. Il governo frena su restrizioni e regioni in giallo. Vediamo anche l'apertura del tempo. Il grande blef del reddito grillino. Gli ultimi dati svelano perché il sostegno non funziona. E poi ancora nel Lazio annullati. 16 milioni di esami medici. Sanità nel caos. Ecco il dossier. Saltate 200 mila visite oculistiche e 147 mila cardiologiche. L'apertura della verità. Eccola qui. Pochi morti. Ospedali vuoti. Ma le regioni rischiano già il giallo. Cambiate regole. O l'Italia richiude. Il metodo non tiene conto della gravità dell'infezione. Bensì del numero dei positivi. Spesso asintomatici. Assurdo rovinare l'estate a turisti e operatori. Per dei raffreddori. Eppure è quello che potrebbe succedere. Anche perché pensano di incrementare i tamponi. Argomento di cui si parla anche sull'avvenire. Eccolo qui. Si rischia il giallo. Il tasso dei positivi sale a 1,2. In 10 regioni aumento dei nuovi casi del 50%. Preoccupazione per i festeggiamenti. L'OMS che dice a Wembley. Contagi in diretta. E a proposito di Wembley. Anche qui si parla della nazionale. L'Italia si fa squadra intorno ai campioni d'Europa. Vediamo l'ultima pagina di Dovere Oggi. La gazzetta dello sport. Italia. Piaci un mondo. Con questa foto appunto che ritorna. Abbiamo visto su tutti i giornali. Allora a proposito dell'Italia. Andiamo nelle pagine interne dei quotidiani. Iniziamo dal Correre della Sera. E andiamo un po' oltre i festeggiamenti di cui si è parlato tanto. Abbiamo visto tante immagini. Mancini a un piano mondiale vuole un altro salto di qualità. La notte magica di Londra non è un punto d'arrivo. Il CT alza l'asticella per il Qatar del 2022. Rilanciare Zaniolo. Recuperare Ken. E chiedere a Chiellini di restare. Dopo il mondiale del 2018. Eravamo ventunesimi. Adesso siamo risaliti fino al quarto posto. Valorizzerà altri giovani. Ha il problema del centravanti. Si pensa a Scamacca e a Raspadori. E appunto qui ci sono gli altri appuntamenti. I prossimi appuntamenti. Si ricomincia a giocare praticamente il 2 di settembre. Con le qualificazioni per la Final Four di Nations League. Andiamo avanti ancora. Eccolo qua. Vi volevo segnalare anche questa intervista. Che troviamo oggi al portiere di riserva della Nazionale. Quel video segreto. Così motivo i miei compagni. Il portiere racconta i messaggi alla squadra. E il collage a sorpresa di mogli, figli e genitori. Inviato per invocare la vittoria finale. Prima della finale ho scritto ai compagni un pensiero libero e positivo. Giochiamo con il sorriso. Perché è un privilegio esserci. Poi ho scritto loro. Siamo arrivati fin qui. Non può che andare in un certo modo. E avevo ragione. E ancora sempre dal Corriere della Sera. La Coppa rafforza anche Draghi in Europa. Prima della finale il Premier ne parlava con Salvini. Meglio non dirlo. Ma farebbe un gran bene all'Italia. E spera in una spinta anche alla campagna vaccinale. E dunque appunto grande positività da questa vittoria. Perché? Perché stimoli all'export e investimenti. Questa vittoria può trainare la crescita. Ci racconta il Corriere della Sera. Le previsioni. Il successo in una competizione europea può avere una ricaduta tra più 0,6 e più 0,7% del PIL. L'impatto si consumi dal vino alla moda al turismo. E il Corriere della Sera ci mostra appunto le pagine dei quotidiani stranieri. E ancora c'è un'intervista al prorettore in Bocconi Stefano Caselli che dice la borsa che sale dopo i successi nel calcio c'è una correlazione che dura dagli anni 60. E dunque quella che stiamo vivendo è una fase favorevole. Viene sottolineato da più parti. Sul Corriere della Sera vi segnalo anche l'intervista che c'è oggi a Berrettini che ieri ha fatto questo giro su questo pullman scoperto insieme agli atleti, ai calciatori della Nazionale. Che fortuna, dice in questa intervista, aver lasciato il judo dopo Wimbledon. Il campione italiano racconta il suo momento magico. Vivo un delirio di emozioni con Djokovic urlavo di gioia e non sentivo la mia voce. Le parole di McEnroe. Non avrei saputo pronosticare Berrettini in finale a Wimbledon ma per come ha giocato sull'Elba soltanto un fenomeno come Djokovic poteva fermarlo. Passiamo un attimo a parlare delle questioni che riguardano il Covid perché abbiamo visto tanti bagni di folla e c'è preoccupazione. I contagi sono comunque ripresi in 19 regioni e adesso si teme per l'effetto europei. L'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice il risultato dei festeggiamenti sarà devastante nel paese tasso di positività è salito di nuovo sopra all'1%. E poi c'è lo stato di emergenza che è in scadenza a fine luglio ma dovrebbe essere prorogato fino a ottobre. Questo appunto sarebbe l'orientamento del governo. C'è un'intervista all'epidemiologa Bisceglia oggi sul Corriere della Sera che dice serve prudenza per feste e riunioni, finestre bene aperte. Sui mezzi di trasporto va trovato un corretto compromesso con la libertà individuale. Si può e si deve viaggiare ma sempre protetti e cercando di avere un ricambio di area. Quindi vedete che comunque ritornano sempre le indicazioni che ormai dovremmo conoscere bene. questioni che riguardano la politica. In primo piano il Movimento 5 Stelle, due settimane per il nuovo Movimento, le incertezze degli eletti, Crimin dirà il voto su Presidente e Regole, Taverna ora un progetto solido e duraturo. Il giorno dopo l'intesa tra Beppe Grille e Giuseppe Conte dalle parti del Movimento 5 Stelle si attende di capire cosa succederà d'ora in avanti, quali saranno i prossimi step quando verranno indette le votazioni sullo Statuto e sul Presidente. I parlamentari aspettano di poter visionare le nuove regole fondamentali. E ancora c'è una questione in primo piano nell'ambito del Movimento 5 Stelle sulla quale ci sarà il primo confronto. Conte la prescrizione così non va e prepara lo scontro sulla riforma. Grillo atteso domani a Roma, l'ex Premier vuole modifiche sui punti crociali e dunque vedremo che piega prenderà questa questione. Andiamo sulla Repubblica, da cui invece volevo segnalarvi la questione che riguarda il disegno di legge Zan che oggi arriva in aula al Senato. La Lega pensa ad un blitz per rimandarla indietro. Alvia la discussione a Palazzo Madama. Presenti due Mattei Salvini torna a Roma per bloccare il disegno di legge. L'ipotesi del rinvio in commissione. Il rischio concreto è che la destra tenti il blitz per mandare il DDL Zan di nuovo in commissione. dopo otto mesi di rinviaudizioni, oggi la legge che porta il nome del deputato Dem e attivista LGBT Alessandro Zan approda nell'aula del Senato. Ma forse tale Lega puntano a non giocare subito la partita e a prendere ancora tempo per cambiare il DDL confidando in un'intesa con Matteo Renzi. Il leghista Andrea Ostellari farà un'ultima offerta a finire in tempi certi l'esame della legge in commissione. E dunque appunto vedremo quello che accadrà oggi in Senato. Vi segnalo per quanto riguarda le questioni relative al Covid sulla Repubblica. L'intervista all'immunologo Sergio Abrignani, componente anche del Comitato Tecnico Scientifico, che dice che entro fino ad agosto 30.000 casi al giorno i vaccini, un baluardo. La Gran Bretagna dice che in questa intervista ha aperto tutto, vediamo se raddoppiano i positivi ma con le vittime e le terapie intensive nella norma e poi decidiamo il comportamento per gli europei. È stato a rischio ma sapremo tra 4-7 giorni come è andata. La festa dell'Inter è stata però innocua, dunque c'è un precedente che in qualche modo ci rassicura. Andiamo un attimo sulla stampa, da cui invece volevo farvi vedere le questioni che riguardano la GKN. Giorgetti avverte basta Far West sui licenziamenti. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Ed è studio con noi Paolo Sottocorona. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo già attiva la nuova situazione. Guardate i temporali che ci sono già sul Piemonte e da lì si era appunto la previsione che si aprisse questa cosiddetta porta dell'ovest, di nord-ovest, da cui entrano le perturbazioni. Tutte queste altre nuvole che interessano il resto del nord e buona parte del centro sono, anche così a occhio, meno intense, sono un po' frastagliate, sono un po' rotte, ma anche loro probabilmente qualche effetto lo daranno nella giornata di oggi. Al momento c'è solo qualche debolissima pioggia. Allora, vediamo tutta la giornata di oggi. Eccolo qua. Il quadro vede queste zone di forte instabilità già attive, per esempio sul Piemonte, in maniera un po' più isolata, ma possono interessare il resto del nord, scendere nel pomeriggio a prendere almeno la Toscana, la Romagna sicuramente, e poi l'Umbria, le Marche e il Lazio, con piogge però, come vedete, dove vedete il verde, sono piogge più deboli. Scendendo ancora a sud e sulla Sardegna, precipitazioni, direi sì e no, ce ne sarà qualcuna debole, sicuramente ci saranno un po' di nuvole. Questa nuova situazione non è ristretta, come vedete prende ancora questa mattina parte della Francia e della Svizzera, quindi è una zona molto attiva. Vediamo domani come si sviluppa questa situazione. Nel complesso le cose vanno un po' meglio, generalmente. Però ancora localmente sul Piemonte, in maniera isolata, ma localmente intensa, ancora Trentino-Alto Adegi, Alto Veneto, Friuli-Venezia-Giulia. Qualche pioggia, vedete, arriva anche sulle zone del centro, dei piccoli punti isolati, con qualche fenomeno, quindi isolatissimo sull'Emilia, sull'isola d'Elba, e qualche pioggia, piano piano, arriva anche al sud. Nella giornata di giovedì rimane questa instabilità molto limitata. Vedete le piccole macchie gialle ci sono al nord, anche su parte del centro. Sono fenomeni però quelli intensi, molto isolati, probabilmente concentrati nel pomeriggio, però ancora non è una situazione del tutto risolta. Sul resto del centro e del sud direi che c'è soltanto qualche nuvola. Le minime di questa mattina, pressoché normali, forse un poco più alte al sud, dove i livelli sono sicuramente un po' sopra la media, sulle altre zone pressoché normali tenderanno probabilmente fra oggi e domani a scendere. Chiudiamo con lo stato dei mari, come era prevedibile col cambiamento del tempo. Ecco la zona in rosso, molto vasta, sui mari di Corsica e Sardegna. Il rosso significa mare agitato, con onde che possono arrivare e superare tranquillamente i 4 metri. E poi però i mari centrali, l'Adriatico, fra mossi e molto mossi. Soltanto Basso Tirreno, Basso Adriatico e Lo Ionio rimangono tranquilli. Che è tranquillità, tra virgolette, caratterizzata dal colore celeste. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. con Emanuele Garulli, da più tardi.